Mi è piaciuto tantissimo perché ho finalmente capito che è ora di accettare chi sono diventata davvero e lo consiglio a tutte le persone che hanno voglia di avere molto tempo per sé e di innamorarsi di se stessi, che sarebbe la cosa che tutti noi dovremmo fare. Ho capito che la strada che sto percorrendo è l'unica possibile per me, è scritta per me e il mio futuro sarà meraviglioso come il mio presente. Grazie